In questo video parlo delle targhe auto personalizzate. Quante volte nei film o in altre nazioni avete visto delle macchine con delle targhe personalizzate come queste? Così, incuriosito da questo argomento, ho scoperto che anche in Italia esiste una normativa che permette di personalizzare le targhe delle nostre automobili. Il nuovo articolo 100 del codice della strada spiega che è possibile richiedere una specifica combinazione alfanumerica per un veicolo da immatricolare. Ma è veramente così? Per saperlo sono andato alla motorizzazione di Modena. Per il discorso targa personalizzata. Beh sì. Come non è? Sì. Quindi non si può fare. Non volevo non fare. Voleva. Quindi non si può fare. Si aspettavo che io sono così. Sì. Sì, però non si può personalizzare come... Va bene. Ok, grazie. Volevo, avevano fatto come in Italia in posizioni d'Italia. Volevo, avevano fatto come in Italia in Italia in Italia. Volevo, avevano fatto come 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 in Italia in Italia.